Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 28 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta sul Dax e Fuzimib. Iniziamo proprio dal Dax, il nostro quarto T-3 che è stato ribassista peraltro e che quindi ha serenamente chiuso il primo T-1 nato insieme al settimanale qua, guardato la condizione per la chiusura del T-1, è arrivato 24 barre per cui i future sono a più 75 punti e ci dicono che si può provare a far partire appunto il quinto T-3. Stessa identica cosa su Fuzimib, come vedete abbiamo fatto 24 barre e abbiamo quindi la possibilità di provare a ritornare verso la media mobile a 200 periodi perché attenzione stiamo per andare in Death Cross, quindi fate estremamente attenzione sul Fuzimib. Sul Dax invece bisognerà vedere se riusciremo a recuperare rapidamente la media mobile a 50 periodi e eventualmente a superarla per la partenza del T-3 stesso, del quinto T-3 stesso, c'è molta più forza su Dax, però vorrei farvi fare una riflessione che ho fatto con un trader amico ieri su Whatsapp. qui su Fuzimib abbiamo un T-1 ribassista dopo 96 barre giornaliere, ovvero la condizione minima per la chiusura di un T-4, noi l'abbiamo già fatta qua a 96 barre. Da qui potrebbe star partendo qualche cosa di più di un T-2 e potremmo già aver avuto la discesa per la chiusura del T-4 stesso, del semestrale stesso. per cui per sicurezza io ve lo faccio notare e vi faccio notare che quindi avremmo viaggiato a 1 T-1, 2, 3, 4, a 5 T-1. Quindi non avremmo avuto i canonici 4 più 4 oppure altro. qui si può essere chiuso il nostro semestrale. E questo significherebbe che avremo ancora forza rialzo e spinto da qua. Questa è una possibilità, d'accordo? Ma devo farvela vedere, è corretto che sia così. E la stessa cosa su Dax? No, su Dax no. Guardate, in questo caso, se partiamo dal minimo e arriviamo a un T-1 ribassista, condizione necessaria per la chiusura di un T-4, andiamo a 92 barre, non 96, che è davvero il minimo. Ok? 48 più 48 sarebbe. Quindi qui il problema si pone. La chiusura dovrebbe ancora essere fatta, anche se sappiamo che il Dax ha delle durate inferiori rispetto a quelle del Fuzzimib. Per cui ragioniamo anche su queste ipotesi, comunque. Facciamo estremamente attenzione. La chiusura del T-4, almeno per quanto riguarda il Fuzzimib, potrebbe essere stata fatta qua. Ciò giustificherebbe, a parte la forza normale, i continui tentativi di andare a riprendersi da discese alto. Vero? Qui dovremmo andare a chiudere un T-3. Ma nessuno ci dice che, dato che questo è il terzo T-3, è vero, abbiamo avuto un buon ritracciamento, non ci sia ancora spinta, perché effettivamente o andremo a tre tempi, come vi dicevo, sul T-2 e quindi favoriamo un'effettiva chiusura più canonica del T-4, oppure la spinta continuerà. Per cui fate attenzione. Attenzione nel senso che un bravo analista cerca sempre di confutare quelle che sono le sue ipotesi di partenza e di fare attenzione a che cosa gli sta succedendo attorno, anche perché sennò poi gli piove addosso a qualche cosa di brutto. Una brutta perdita. Mentre invece, anche ieri ci siamo portati a casa un piccolo gain da short. Ok. Quindi, questo terzo T, con questo terzo T, che è arrivato a 4 giorni, si potrebbe serenamente andare in chiusura di T-2 e creare la condizione per la chiusura anche del semestrale stesso. Questa è l'ipotesi fondamentale. Provare a salire, ma non facendocela, andare eventualmente sotto questo minimo a 19.251, piuttosto che in realtà poi a 18.948. Ma a noi basta un T-1, quindi in realtà ci basta andare di nuovo sotto questo minimo, perché il secondo T è nato qui e quindi avremmo la condizione per. Siamo a 19 giorni su minimo 24, quindi mancano 5 giorni, che sommati minimi a quelli già passati del terzo T ci porta a 9 giorni su 11 al massimo. Perfetto. Se non ci fosse più particolare spinta, e lo stiamo già vedendo, perché abbiamo violato di nuovo gli swing importanti e stiamo continuando a scendere, andremo finalmente a chiudere in maniera più decente, ok, il T-4, il semestrale. Per cui occhio agli swing, come al solito, sono fondamentali, soprattutto su Darks, che è molta più forza. Per cui, dato che qui siamo arrivati, anche in questo caso, al terzo T a 4 giorni, di nuovo, dato che il secondo T è nato qua, ci basterebbe ritornare sotto il minimo a 12.633 per andare a chiudere il nostro T-4 semestrale. Direi che non ci sono molte altre cose da raccontarsi, per oggi quindi, attenzione alla partenza eventuale di un secondo T-1, perché ci dovrebbe spinta e rialzo per almeno altre 6 ore. Da minimo a minimo, sento, mi raccomando, è cosa fondamentale. E questo direi che è tutto. Se invece andremo in violazione di questo minimo qua, verremo proiettati di nuovo verso la media mobile a 200 periodi. Stessa identica cosa su Fuzzimiba. Attenzione, qui siamo già quasi in un dead cross. Attenzione, perché qui la forza è ancora più bassa, quindi eventualmente non riuscire a partire un secondo T-1, un bello short sotto questo minimo a 19.880, ci porterebbe a chiudere eventualmente il gap, tornando sui 19.717. Vi ringrazio per l'ascolto. Se vi è piaciuta questa analisi, vi è dato qualcosa, mettete un bel like, sottoscrivete il canale che è totalmente gratuito, come tutti gli insegnamenti di ciclica evoluta che sto dando a tutti, per fare formazione gratuita a tutti. Se volete fare un passo in avanti, contattatemi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.